Buongiorno, io invece sono qui a raccontarvi in questi pochi minuti alcuni dettagli di questo nuovo corso magistrale, quindi si tratta di un'offerta formativa che non è ancora iniziata e inizierà a partire da quest'anno accademico, quindi chiaramente siamo ancora un work in progress, non abbiamo ancora tutti perfettamente i dettagli, sappiamo solo che partiremo di sicuro, quindi abbiamo l'approvazione, questo è chiaramente fondamentale, però rispetto ai master di cui avete sentito parlare oggi abbiamo chiaramente ancora, sicuramente non vi farò vedere dati di occupazione, quindi questo è qualcosa che almeno per qualche anno chiaramente non potremmo avere. Quindi cercherò più che altro di puntare su alcune particolarità che caratterizzano questo corso. La prima, è legata al fatto che come vedete ci sono due diciamo in qualche modo discipline, chiamiamole così, presenti nel titolo che sono l'aspetto diciamo biotecnologico che abbiamo visto anche nella presentazione di prima, è quello chimico, presenti in questa laurea perché questa è una laurea interclasse, interclasse cosa significa? Significa che in realtà come sapete quando uno inizia un percorso universitario alla fine viene in qualche modo etichettato a seconda di quella che è la classe di laurea di quel percorso. Nonostante si parli molto di multidisciplinarità, trasversalità alla fine poi uno esce da un percorso ed è un chimico, un biologo, un biotecnologo. Questo non cambia nulla, questa offerta non cambia niente, lascia diciamo un periodo di tempo, che sono i due anni, per permettere di fare una scelta. Quindi vuol dire che in qualche modo all'interno di questo percorso gli studenti potranno prima di laurearsi scegliere se uscire come biotecnologi industriali o uscire come chimici. In realtà si esce comunque con una classe di laurea e in ogni caso in cui due anni uno può magari cogliere mezzo certi aspetti e poi fare diciamo questa scelta che comunque deve essere fatta. Questo ha permesso anche di creare un'offerta che appunto arriva da due dipartimenti diversi in cui ci sono queste competenze necessarie. Io lavoro al dipartimento di biotecnologie molecolari, che è un dipartimento che ha comunque un'anima chimica, circa un quarto dei docenti, poco meno, arriva dalle aree chimiche. Quindi abbiamo comunque una forte componente e i chimici di questo dipartimento lavorano soprattutto nell'ambito biomedico per trovare anche la connessione con gli altri colleghi che invece lavorano in aree diciamo biologiche e medie. In particolare lavoriamo soprattutto nell'ambito diagnostico, quindi l'idea di questa offerta è in qualche modo sfruttare queste competenze per cercare di creare un profilo professionale che possa essere inclusivo e quindi possa accogliere studenti che arrivano da triennali più orientate all'ambito biologico come biologia e biotecnologia e quelli che invece arrivano come voi diciamo da un ambito chimico per cercare comunque almeno per quei due anni di creare una connessione. Qui vedete insomma l'indirizzo della pagina di, non lo vedete molto bene, scusate i colori, di CampusNet però diciamo fino a giugno verosimilmente i contenuti non ci saranno proprio per questa fase ancora di costruzione. Sulla diagnostica chiaramente sappiamo tutti che cos'è, sappiamo anche quanto in questi ultimi anni purtroppo questi aspetti sono diventati ancora più così conosciuti o comunque si sono diffusi di più. Quindi qui il termine diagnostico diciamo è più declinato sia in quella che è la diagnostica classica diciamo come chiamiamo noi in vitro per cui si cerca di dare tutte quelle competenze diciamo più che altro sulle mitodologie, molte chimiche, alcune più in ambito bio per diagnosticare una qualunque patologia e poi tutto il mondo della diagnostica in vivo in cui invece questa cosa si cerca di farla su un organismo vivente. Chiaramente qui il taglio è biotecnologico chimico quindi non si parla di ospedali, non si parla di pazienti, si parla di avere quelle conoscenze che in genere non sono molto trattate in questo argomento. Quindi noi speriamo anche che questo corso che non ha diciamo offerte simili in Italia ma anche poche a livello diciamo europeo possa appunto attrarre le persone che possono avere un interesse diciamo in questo settore. La chimica entra pesantemente in tutti questi aspetti sulla parte in vivo che è quella che io conosco personalmente di più per esempio è lo sviluppo, la progettazione, la validazione di una qualunque molecola che possa servire per diagnosticare una patologia ma anche la conoscenza di tutte quelle tecnologie che permettono di ottenere queste immagini perché le due cose sono ovviamente fortemente collegate. Quindi gli obiettivi diciamo così sono quelli di fornire conoscenze in ambiti che sono piuttosto diversi, riconoscerete alcuni aspetti che già avete visto nella vostra trennale un po' più chimici, altri invece che sono un po' più di ambito bio, applicazioni in quelle che possono essere diciamo i settori di ricerca che sono ovviamente in forte sviluppo e che hanno questa doppia componente. Dal punto di vista dell'accesso questo crea già una piccola differenza come vi dicevo un studente che esce dalla chimica, dalla trennale di chimica o che esce dalla trennale di biotecnologia o che esce dalla trennale di biologia ha già accesso a questo corso. Chiaramente come è stato anche detto prima ci sarà poi una soglia di un accesso libero piuttosto che fare un test in base alla votazione ma c'è un accesso libero per tutte queste discipline. Poi chiunque può dall'esterno avere i requisiti, i crediti dei vari settori che ovviamente gli permettono di avere quella conoscenza di base per poter avere accesso, potrà ovviamente avere accesso. Altre conoscenze, sì non ve l'ho detto ma l'avete colto anche dalle slide, il corso è in inglese anche questo, questo è il format diciamo che l'Ateneo ci ha chiesto per fare l'open day in inglese come avete visto anche nella prima presentazione e quindi sarà un corso completamente erogato in lingua inglese in cui è necessario una minima conoscenza della lingua che chiaramente come sappiamo è comunque fondamentale per questo tipo di lavoro. Su questa parte di distribuzione non vi farò vedere i corsi, gli insegnamenti, questo li potrete poi trovare chiaramente poi andando a visitare il sito. Volevo dirvi ancora una cosa che lì è indicata, cioè un'altra particolarità di questo corso che è un certo numero di crediti che abbiamo definito il 10% come minimo e sarà quello, verrà erogato in modalità online che non significa al classico lezione fatta a distanza piuttosto che sincrona o non sincrona ma cercare di costruire dei pacchetti da offrire agli studenti da integrare l'attività in presenza soprattutto perché come capite uno degli aspetti un po' delicati di questo corso sarà un po' diciamo livellare le conoscenze. Chi arriva da chimica come voi la chimica la conosce bene, chi arriva da un ambito più bio la conosce meno bene e voi conoscete un po' meno bene alcuni aspetti di base della biologia molecolare e cellulare e quindi questo scambio che è necessario per creare il profilo giusto deve essere fatto e cercheremo di sfruttare questi strumenti per darvelo senza dover come dire impegnarsi troppo e perdere altri concetti importanti quindi l'offerta online ha un po' lo scopo di essere un po' propedeutica da questo punto di vista. Per il resto avete visto insomma più o meno la distribuzione di crediti quella un po' solita, attività frontali, laboratori, tesi sperimentali, tirocini curriculari, una piccola parte di corsi opzionali. Dove fare diciamo l'attività? Diciamo noi come Dipartimento abbiamo una serie di centri, la didattica è essenzialmente in Venezia 52 presso la sede del Dipartimento che vedete qui. Questa è una struttura che, questa è ancora una foto in realtà è vive e vegeta ed è già insomma io lavoro lì che è una struttura vicina a Piazza Nizza dove non si fa didattica ma si farà chiaramente attività di ricerca quindi tenendo conto dei tempi tra un paio d'anni chi eventualmente farà questo percorso potrà anche utilizzare quella struttura per fare l'attività di ricerca oppure chiaramente altri ambiti sia diciamo di ricerca accademica che anche industriale per fare stegi, tirocini, insomma connessioni. Questa non è una lista esaustiva ma sono alcune possibilità, alcune opzioni. Sullo progetto di lavoro non aggiungerei molto a quello che è già stato detto, un laureato magistrale ha conoscenze che poi chiaramente metterà frutto soprattutto quando prima fa la tesi impara a specializzarsi in una cosa. Poi in base al lavoro che farà l'importante è avere le conoscenze per fare bene quel percorso, è difficile che uno esca già avendo esattamente tutta la conoscenza di quello che dovrà fare. Il nostro obiettivo è quello di darvi tutte queste conoscenze. Qui c'è il mio nome, mi chiamo Enzo Terreno, posso ancora dirvi prima di chiudere che ci sarà un'iniziativa simile a questa la prossima settimana però organizzata dal Dipartimento di Biotecnologie per anche in questo caso presentare le offerte di quel Dipartimento dove chiaramente presenteremo anche questa con un po' più di tempo perché le biotecnologie ci sono meno offerte quindi c'è meno offerta formativa da questo punto di vista e inviteremo anche ospiti diciamo così anche dal mondo dell'azienda che possono in qualche modo dare un po' una testimonianza. Credo che riceverete comunque questa informazione quindi se qualcuno di voi sarà comunque il 18 mercoledì prossimo alle 16 in Venezia 52.